Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 20 luglio. Allora, ci sono tanti temi importanti, soprattutto quelli geopolitici, quello che sta avvenendo nello stretto di Ormuz, ma nel mondo in cui nessuno si scandalizza e i giornali fanno finto di non accorgersi del fatto che YouTube, che io uso, Google utilizzavano senza chiedere il permesso le informazioni personali dei bambini di 13 anni, di 12 anni per vendere le loro pubblicità che non era adeguata e che per questo si beccano una ridicola multa per quello che fatturano queste due aziende. In questo mondo, in cui il tema dei nostri dati e della verità sulla nostra capacità di mantenere la privacy si sono occultate, in questo mondo noi ci occupiamo di fenomeni, cioè questi cretini, cretini, proprio li vedete perché hanno la faccia del cretino, i cretini dei fact checker, che sono quelli che pensano di avere la verità in tasca, perché la verità in tasca un tempo ce l'aveva con Ecker, in un bellissimo oggi tre pagine che potete leggere di Ezio Mauro, cioè il paese delle file, il paese della DDR, invece oggi la verità ce l'hanno i fact checker, cioè quelli che pretendono, ve ne leggo ieri cosa ha scritto questo qua del foglio, cioè Lorenzo Borga, uno fa un servizio che titola ecco la prova del legame tra scafisti e ONG, che documenti i rapporti tra scafisti e organizzazioni non governative e poi si arrabbia quando qualcuno gli fa notare con fonti e logica, fonti deficiente, deficiente, hai presente? Cioè ti manca una parte del ragionamento, le fonti non ti sei neanche reso conto che quell'articolo non l'ha fatto d'Aloiso, punto morimo, punto primo, deficiente, ti rendi conto, neanche sai che hai scritto il servizio e pensi di avere fonti e logiche, lo sai che la guardia di finanza sta guardando quel servizio per capire cosa che tu non hai la più pallida voglia di fare? Perché siete così, fact checker, fact checker, deficienti, poi dopo questo Lorenzo Borga è in una compagnia straordinaria, perché piccoli Lerner, crescono piccoli, diciamo vedi rispetto a Lerner è peggio Borga perché è come un uomo di Oneker, cioè è un deficiente che crede di avere ragione, mentre Lerner è chiaramente in cattiva fede, oggi Marcello Foa scrive alla Repubblica dicendo scusate va bene tutto, è denigratorio quello che ha scritto Lerner riguardo al fatto che io so le cose di Putin, mentre io gli ho risposto ieri che forse l'unico qualcuno che sa qualche cosa è, come si chiama, Lerner delle cose di De Benedetti, grazie all'elicottero con cui si faceva trasportare per il mondo e soprattutto in Sardegna, ma il punto fondamentale è che Foa dice ragazzi mi avete accusato di far parte di un convegno e di andare a un convegno dove non ci sono stato, allora i vari Borga e Lerner cosa avrebbero detto? Quello che ha scritto Lerner, eh ma c'era scritto che ci andavi, ad efficienti, non ci è andato e lui dice, Foa, che non c'è andato e questi qua che sono in mala fede, a differenza di Borga secondo me che è peggio perché in buona fede quello è peggio, diciamo ovviamente in buona fede si è peggio di questi invece che fanno finta come Lerner di essere in buona fede ma sono in cattiva fede, diciamo ah ma chi se ne frega non cambia nulla, risponde Lerner alla lettera di Foa, anche se non ci sei andato non c'entra nulla, non si smentisce quello che ho scritto ieri, ma come non si smentisce, dici che va a un convegno e poi non ci va, toc toc, Lerner non c'è andato a quel convegno, si chiama giornalismo o come dice il tuo figlioccio Borga sul foglio, come si chiama, logica, fonti, fonti e logica, io lo trovo straordinario, questi che sono andati massimo tra Lugano e il TPI, l'altro sito che oggi mi attacca su questa vicenda dell'ONG, un sito che mi sembra che mi ha pagato una volta per fare una lezione di giornalismo, 300 euro mi sembra, chissà se mi hanno fatto la ritenuta d'acconto, TPI mi hanno invitato per parlare di giornalismo e poi mi attaccano dicendo, fantastici no? Perché forse volevano mandarmi qualcuno, sì mi hanno chiesto di mandare qualcuno a fare lo stage laddove noi mandiamo le persone a fare le fake news, sono straordinari, i soldi vanno bene, poi dopo le fake news, TPI scusami non TPI, sì forse sono loro, ma forse mi sbaglio, se loro mi mandano una lettera di smentita gliela pubblico, non come Lerner che appunto dice che anche se FOA non è andato al convegno è come se ci fosse andato, io dico allora vale tutto, vale tutto, è stupendo oggi Italia Oggi, è stupendo Italia Oggi, forse è una fake news anche questa, ieri sui giornali io non me ero accorto, Daisy Osaki che è una diciamo atleta italo-africana, ma italiana ovviamente, era stata aggredita nel passato e ci fu una grande polemica su questa aggressione e ieri i titoli Ricorda Italia Oggi è riscatto dopo l'aggressione razzista, allora Borga e Lerner che hanno praticamente fatto questo titolo idealmente, possono pensare che questa ragazza sia stata aggredita da dei neonazi, dei figli di Salvini, degli amici di Porro e di Quarta Repubblica, no, era stata aggredita dai figli di un assessore del PD e di una signora dell'estrema sinistra, tant'è che fecero una tale figura di merda, perché prima parlano di razzismo, poi si capì che in realtà erano soltanto due cretini, come quelli che lanciavano i sassi dal cavalcavia, due deficienti, beh questi deficienti comunque tutto erano tranne che i salviniani, la cosa straordinaria è che poi dopo un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, quest'atleta rivince una grande competizione e che cosa scrivono i giornali? Riscattata, riscattata dall'aggressione razzista, ma razzista di che? Riscattata da un'aggressione di due cretini, non razzista, cretini come questo mondo dei Borga, dei Lerner, si parva Lichet, ovviamente mi scuso per Borga, perché Lerner è un grande maestro, lui è uno straordinario, leggetevelo con attenzione che avrete grande successo, perché il successo è assecondato per quelli che hanno sempre e comunque sono della parte giusta come voi, tanto Salvini si capisce bene da quello che avviene, arriviamo al dunque dei giornali, è finito, è finito non perché è finito elettoralmente, oggi c'è Pagnoncelli che dice che ha il 36%, il 17% invece del Movimento 5 Stelle, è finito la rottura di Salvini rispetto a un modo di pensare che è quello comune, perché Salvini è come Berlusconi vent'anni fa, toc toc, Borga, tu stai in un giornale che ha difeso Berlusconi per vent'anni, anche su Mubarak, te lo ricordi? Le fake news, come era la nipote di Mubarak? Fake news, fake true, ma vaffanculo, guarda, è una cosa che mi viene da morire a me, sulla cosa delle lezioncine, del foglio, le lezioncine, ma comunque, e facciamo bene a difendere Berlusconi, come facciamo bene oggi a dire che è finito Salvini, è finito perché il mondo gli si sta chiudendo sopra, puoi avere anche il 36%, c'è un pezzo di Pennisi molto bello oggi sul mio sito, e cioè poteva esserci Berlusconi, poteva esserci Renzi, che era una rottura, a parte l'immigrazione rispetto al sistema consueto, ti fotte il Deep State, quello di FOA, di noi complottisti, alla fine ti fotte, quello dei Borga, quelli che pensano così, che pensano a senso unico, i giornalistini con lo stampino, che sono tutti uguali, che il loro coraggio massimo è quello di prendersi, non so, le uova Benedict, oggi mi prendo le Benedict, cazzo quanto sei coraggioso. Perché cade? Perché è inevitabile che cada, perché non è azzeccata una, si è alleato con un governo in cui, come dicono oggi giustamente i giornali, se cadrà, come dice bene Vespa oggi sul quotidiano nazionale, qual è il timore per il quale Salvini non va a caduto di questo governo? Perché ne fanno un altro senza di dubbi, è simple as that, facile, cioè se questo governo dovesse esaltare, ne arriva un altro al posto di lui. Giorgetti, che questa cosa l'ha capita, si vuole dimettere anche, secondo Verderami, oggi da tutte le sue cariche come sottosegretario della Presidenza della Repubblica, oltre a non andare, la Presidenza del Consiglio, oltre a non andare in Europa, dove secondo me non c'era nessuna intenzione di mandarlo. Vietnam, grillino, titolo del giornale, ma anche qui sbaglia, il Vietnam non è grillino, il Vietnam è leghista, un partito che ha il 36% potenziale e lo ha preso le europee e non conta nulla, nulla. Mi diverte moltissimo oggi una foto, quella di avvenire, in cui ci sono delle suore ammanettate, è una foto straordinaria sul manifesto del partito non più comunista, catto comunista dell'avvenire, ci sono le suore ammanettate, perché sono andate a pregare per i bambini trattati in maniera inumana, secondo loro e anche secondo noi, da Trump, ovviamente secondo noi e secondo la nostra cultura europea, sono state trattate in maniera inumana, sono state ammanettate perché sono andate a pregare al Senato, l'avrebbero ammanettate chiunque, Carter, Reagan, Bush, Obama, al Senato della Repubblica Americana non si possono fare certe cose, mi diverte perché vedo le suorine che pregano ammanettate e poi vedo dall'altra parte Carola che sperona, forse questa è una fake news, Borga, sì sì è una fake news, non sperona, siccome la guardia di finanza si è messa tra una nave e la banchina, la guardia di finanza si è fatta speronare, quindi sono dei delinquenti, si è fatta speronare dalla barca di Carola, allora vedo Carola che gira e pontifica per l'Europa, santificata dal Presidente tedesco e da tutti gli intellettuali alla Borga e dall'altra invece trovo, come si chiama, le suorine arrestate, adesso io non sono dell'idea che si debbano arrestare le suorine, però insomma troviamo una via di mezzo, insomma Mauro ve l'ho raccontato, tre pagine che sono da ridere ma anche da leggere su Honecchera e la sua caduta e la sua morte prematurale, nella Germania dell'Est racconta quel sapore e quella vita che era in fondo così amata dai Lerner e da quelli che facevano lotta continua, quello volevano e anche gli amici di Mauro, lotta continua, volevano quella roba là e adesso ci spiegano a noi dopo 40 anni, dopo 50 anni perché quella roba là faceva schifo anche se poi vengono traditi dal loro pensiero, perché leggo una frase di Mauro in quella quasi romantica, in quella Germania dell'Est in cui ci si metteva in coda semplicemente perché c'era la coda, no ragazzi ci si metteva in coda perché c'era un partito comunista di schifo che voi amavate e che voi propagandavate e di cui oggi ci raccontate i vizi a noi che ci ha sempre fatto schifo quel tipo di comunismo, a noi, non a Camilleri, non agli intellettuali che in quell'epoca stavano da quell'altra parte e gli intellettuali come la Lerner che in realtà persero il posto di lavoro per essere contrari a quel tipo di comunismo, anche se da sinistra. Vabbè straordinario la storia di Bibiano oggi perché Foti, lo psicoterapeuta che è stato arrestato invece viene raccontato da Repubblica e dal Corriere in maniera super difensiva, vorrei vedere se questa cosa fosse avvenuta nei confronti di altri accusati per altre indagini, innocente fino a prova contraria, ma comunque insomma una specie di uomo a cui gli si dà, perché la stampa gli è sempre stata vicina, una possibilità di riscatto. Fubini si accorge finalmente su Corriere della Sera che lo spread è sceso e sapete perché lo spread è sceso? Perché il Movimento 5 Stelle è diventato nella maggioranza d'Europa. Io dico ma è una cosa straordinaria, ma è straordinaria, lo spread scende e tu fai il giornalista economico scende per due motivi, perché la Banca Centrale dice che continua con la sua politica espansiva e perché va una persona a guidare la Banca Centrale che non è di rottura rispetto a Draghi, però invece prima era tutta colpa dell'Italia e oggi è ancora merito dell'Italia, ovviamente la linea logica è sempre quella, fonti e logica come direbbe Borga. Fantastico la lezioncina di Borga, la vera cosa che sta avvenendo nello stretto di Ormuz e cioè, e qui il foglio invece lo racconta bene, la guerra per il petrolio e le divisioni sul fatto banale che l'Iran di quello campa e se gli fai un embargo al petrolio di quello vuole campare e per quello cerca di sfuggire da questa mossa tremenda. Cercate le vostre fonti e le vostre idee fondamentali perché avrete sempre un giornalista dalla schiena dritta che capirà che noi facciamo solo fake news, anzi mi scuso, tutta questa zuppa di porro è una gigantesca fake news, non mi querelate, state querelando la satira. Ciao!